Qui ancora il calcio si gioca per strada. Questo è vero, io quando sono arrivato il primo giorno vedevo più che altro i ragazzini in spiaggia, tutti avevano una palla, erano in gruppi di 4-5, avevano tutti una palla e anch'io quando ero ragazzino giocavo fuori per la strada, per casa mia nonna, andavo al parco di qui e di là fino a tardi. Quindi è una cosa l'arrivare qua e vedere queste cose, tu ci pensi e torni indietro, dici quanto era bello quando andavi per la strada giocavi e non ti stancavi mai.